Un confronto tra l'Europarlamento e la Commissione sul Made In, il regolamento che ha come obiettivo l'etichettatura obbligatoria per i prodotti importati dai paesi extraeuropei. Lo ha chiesto da Strasburgo l'eurodeputato Sergio Silvestris, vice capodelegazione del PDL al Parlamento europeo, durante l'ultima seduta plenaria. Nel 2010 il Parlamento europeo ha approvato con 529 voti il regolamento sull'obbligatorietà della denominazione d'origine e la Commissione di fronte a un voto così ampio non può e non deve ritirarlo. La indicazione obbligatoria dell'origine per alcuni prodotti è fondamentale. Commissario, nel sud dell'Italia, nel mio paese, in Puglia, in Calabria, in Campania, in Molise, in Basilicata, siamo invasi dai prodotti cinesi. E migliaia di aziende, di piccole aziende hanno chiuso, creando decine, centinaia di migliaia di disoccupati. Sono più di dieci anni, spiega Silvestris, che le imprese italiane chiedono una normativa chiara, in grado da una parte di tutelare la filiera industriale del tessile, del manufatturiero e dell'imbottito, dall'altra di fare chiarezza sull'origine dei prodotti che spesso orienta la decisione finale dei consumatori. Ritirando la proposta di regolamento, signor Commissario, voi farete gli interessi di chi? Delle aziende che producono legalmente o dei forfanti che operano con trafazioni? Delle piccole e medie industrie del tessile, calzaturiero e abbigliamento che danno lavoro e che hanno sviluppo nelle città d'Europa? O delle multinazionali che fuori dall'Europa producono senza rispettare le norme europee? Farete gli interessi delle aziende che pagano un giusto e dignitoso salario ai lavoratori e ne garantiscono i diritti? O di chi sfrutta i lavoratori nei paesi in via di sviluppo trattandoli come schiavi? Per una volta faccia gli interessi dei cittadini europei. Signor Commissario, ce ne guadagnerà lei, l'Europa e la sua credibilità. La Commissione, conclude Silvestris, non può ignorare questo scenario ed è auspicabile che l'Unione Europea reinserisca prepotentemente nella propria agenda del 2013 il tema dell'etichettatura made in, aprendo un confronto tra Commissione e Parlamento. Altrimenti la ripresa sarà sempre più lontana.